A voi sposi dedico costantemente il mio lavoro, la mia professionalità e l'esperienza di tutti i miei viaggi in modo che il vostro viaggio di nozze sia il viaggio indimenticabile. Mi chiamo Valentina Tacconelli e sono titolare e direttore tecnico dell'agenzia Idraviaggi. Idraviaggi è una tappa importante di un percorso professionale svolto nell'ambito nel settore del turismo e aeronautico che iniziai nel 1996. Dopo tutti questi anni di esperienza nel 2010 ho deciso di aprire la mia attività, una mia realtà che oggi è leader nel settore dei viaggi di nozze. Nella mia agenzia operano con me dei collaboratori anche esperti nel turismo. Il nostro punto di forza è sicuramente l'esperienza e il lavoro che svolgiamo giorno dopo giorno con i maggiori tour operator e con essi cerchiamo di creare ad hoc, quindi su misura, un viaggio di nozze proprio per le esigenze dei vostri viaggi. Cerchiamo di realizzare al meglio il vostro sogno. Per poter arrivare ad ottenere un buon lavoro, quindi nel nostro caso a creare un viaggio di nozze che sia il più adatto alle vostre esigenze, proponiamo comunque non un incontro ma bensì diversi con gli sposi nella nostra agenzia dove insieme chiacchiereremo, prenderemo un caffè, vi mostrerò delle slide, dei video, tutto il nostro materiale e insieme parleremo, aggiusteremo, modificheremo il viaggio in modo che rispetti tutte le vostre esigenze. Vi aspetto in agenzia per conoscerci e dove sarà a voi riservato un regalo che sarà una sorpresa per voi e la nostra agenzia si trova in Viale Abruzzo a Chietiscalo e per maggiori informazioni potete contattarci al 339 143 2178. Vi ricordo che saremo presenti 29 e 30 settembre 2018 ad Abruzzo Sposi presso il Paladin Martin a Monte Silbano, primo evento interattivo in Italia.